Come entrare in meditazione? O come entrare in meditazione? In realtà è molto molto semplice. Intanto dovremmo capirci che cos'è uno stato meditativo, che cosa significa entrare in meditazione. Diciamo che brevemente, tanto per mantenere la risposta il più breve possibile, entrare in meditazione significa in qualche modo entrare in uno stato mentale che non è quello a cui siamo abituati, in cui siamo assorbiti da mille pensieri. Quello è una forma di spizofrenia normalizzata, nel senso che tendiamo, è normale nella misura in cui lo facciamo tutti, ma se vedi è comunque doloroso, stare sempre immersi nei pensieri, pensieri sul domani, pensieri sugli ieri, e ci perdiamo l'unico momento in cui siamo vivi, che è l'adesso. Quindi entrare in meditazione significa entrare in uno stato della mente che è libero da tutti questi pensieri ricorrenti, questi pensieri compulsivi che sono al di fuori del nostro controllo, che creano ansia. E quindi c'è uno stato di assorbimento che produce la meditazione quando siamo nel qui e ora, che è chiamato Samadhi. Allora, se con il termine come entrare in meditazione intendiamo questo, un modo è quello di... beh, allora, guarda, facciamola molto più semplice. Il modo migliore per entrare in meditazione è col respiro. E ho finito la risposta. Assolutamente così. Con il respiro, osservando il respiro, ci focalizziamo su quello che avviene nell'esperienza del respirare che avviene nel qui e ora, e quindi sfrondiamo tutto il resto dell'attenzione, tutti i pensieri che tenderebbero a entrare compulsivamente e a padroneggiare la nostra testa. La nostra testa invece la otteniamo semplicemente focalizzata sul respiro e sull'esperienza nel qui e ora che facciamo del respirare. E questo produce calma. Questa calma, poi alimentata da un stato o dose anche di vipassana, di consapevolezza, può portare anche a... appunto ad una vipassana e a uno stato di assorbimento piacevolissimo come quello di Samadhi, ma anche no. Quindi, per questo dico, se entrare in mediazione significa entrare tecnicamente nella pratica, stai con il respiro. Se intendi quello stato di assorbimento, comunque il respiro è sicuramente un punto ineluttabile, comunque focalizzarci sul corpo, e il respiro normalmente è, diciamo, la chiave più usata, più funzionale, poi anche lo stesso corpo, certe volte il mantra, quindi ci sono varie forme su cui posare la nostra attenzione, ma il respiro è quella che consiglio, quindi per entrare in mediazione il respiro. Poi c'è una terza chiave di lettura, ma anche lì la risposta non cambia, che se come stato di meditativo intendiamo quello che si potrebbe registrare da uno strumento come un elettroencefalogramma messo sulla testa di un praticante di meditazione, vedremmo probabilmente delle onde simili a quelle che abbiamo quando ci avviciniamo in cui siamo molto rilassati, probabilmente sarebbero onde alfa. In realtà sono state misurate anche altri tipi di onde, però, insomma, diciamo, tendenzialmente è quello. E anche lì, quando ci rilassiamo, e visto che il respiro ci aiuta a rilassarci, anche in questo caso direi che come entrare in mediazione col respiro. Bene, sembra semplice questa domanda, ma come vedi bisogna capirsi un pochino. Veniamo a un'altra domanda, sempre di Giulia, che dice, come capire se stai meditando bene? Oh, anche questa sembra una domanda banale, in realtà può essere molto interessante come risposta, perché il luogo comune, e non è la vera risposta, ma un luogo comune è io medito quando non ho pensieri, medito bene quando non ho più pensieri. E non è così. Sarebbe molto frustrante se fosse così, perché allora nessuno riuscirebbe a meditare, perché è difficilissimo riuscire a non avere pensieri. Ci riescono normalmente poche persone, poi riescono a pensare a comando, quindi non è che non hanno pensieri, però riescono a pensare a comando. Ci riescono pochissime persone, non so se ci riescono sempre, sicuramente non è il caso della stragrande maggioranza delle persone, incluse quelle che meditano. La stragrande maggioranza delle persone medita proprio perché si accorge che normalmente è in balia dei pensieri. e allora si allena a cercare di dar sempre meno retta ai pensieri e di focalizzarci su qualcosa che è nell'adesso, come, lo ripeto spesso e volentieri, per esempio il respiro ci aiuta a fare questo. Quindi, cosa facciamo? Ci apporniamo la nostra attenzione al respiro e noteremo che dopo un po' qualche pensiero ritorna a sorgere. Ok, vuol dire che sto meditando male? No, no. No, è normale che sorga il pensiero, solo che non gli devo dar retta, cioè non mi devo far trascinare via dai pensieri. Idealmente. Cosa succede normalmente? Che probabilmente dopo un po' mi faccio di nuovo trascinare via dai pensieri, ma me ne accorgo di nuovo. E quindi ripongo la mia attenzione al respiro. Quindi, oserei dire che per capire se stai meditando bene, devi riuscire a notare i pensieri. È strano, no? Tu dici, non dovresti pensare, uno può pensare. Non è proprio così. Non devi essere in balia dei pensieri. Quindi, quando ti accorgi che c'è un pensiero, è un momento in cui io, per esempio, tendo a criticarmi, invece è un buon momento. Cioè, tendo a criticarmi perché dico non dovevo pensare, poi nessuno dice che non devi pensare, però la tendenza è quella, no? Dire, però pensavo, non è il massimo. Però mi sto giudicando. In realtà, in quel momento lì in cui mi sono accorto che stavo pensando, sono ritornato a essere presente a me stesso. Cioè, mentre prima io ero assorbito, trascinato via dai pensieri, quando io mi accorgo che sto pensando, sono di nuovo protagonista della mia vita, mi accorgo che sto pensando, non sono più trascinato via dai pensieri in quel preciso momento. Quindi, un buon segnale, se stai meditando bene, è accorgerti di quando stai pensando. Non di non avere pensieri. Certo, se riesci anche a non avere pensieri, potrebbe essere buono, se fosse vero. Il più delle volte non è così. Potrebbe succedere che non ti accorgi che stavi pensando, poi, non so, hai messo, hai voluto meditare per dieci minuti, per tutti i dieci minuti non ti sei mai accorto neanche di un pensiero, perché semplicemente eri trascinato via, eri totalmente perso in questo sproloquio della mente che ti faceva fantasticare su ogni cosa. E ti ne accorgi solo quando suona la campana finale e sei stato, sì, tranquillo, semplicemente perché sei stato seduto a meditare, ma, cioè, seduto, quindi il fatto di stare seduto e tranquillo tra virgolette ti ha tranquillizzato, sei ritranquillo fisicamente e apparentemente la mente si è un po' acquietata. Ma non è così. Se non ti sei accorto che stavi pensando e stavi pensando per tutto il tempo, ti sei lasciato, ti sei abbandonato al fluire, al flusso dei pensieri, beh, non stavi meditando bene. Per meditare bene significa che devi avere quell'energia, quella capacità di poterti accorgere di quello che succede dentro di te. Lo ripeto. Per meditare bene devi avere quella capacità di accorgerti che cosa succede dentro di te. Quindi, quando ti accorgi che stai pensando, stai facendo questo. Va bene. Io quindi direi, per sommi capi, per semplificare, che un buon segnale per capire se stai meditando bene è accorgerti, avere la facoltà di accorgerti che cosa succede in te in generale, ma in particolare accorgerti anche che ci sono dei pensieri. Quindi, quelle cose che ci potrebbero far dire non riesco a meditare perché ho tanti pensieri potrebbe invece essere una risorsa, potrebbe essere anche un segnale che invece hai ancora accesa. Quella dose di attenzione, quel retto sforzo che fa sì che tu possa accorgerti anche del fatto che un attimo prima è ritrascinato via dai pensieri. Se ti è piaciuto il video, lascia un bel like, scrivi anche un tuo commento perché è utile sentire la tua, è arricchente per me e per gli altri, iscriviti al canale se non l'hai già fatto e se non hai ancora scaricato la meditazione gratuita, la trovi qua. Che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici.